Tronchi e rami adagiati sulla riva dal mare che diventano un'enorme torre fissati con chiodi, fil di ferro e corde resistenti al vento e ben distanti dalle onde quando il mare diventa minaccioso. Sta tirando numerose attenzioni e soprattutto curiosità la struttura che sorta nel giro di una sola estate a Fosso del Diavolo di Torino di Sangro a pochi metri dalla spiaggia naturista. 20 metri di altezza, fitto in treccio di rami simile alle guglie gotiche, l'opera si erge maestosa ed è frutto di uno strano e originale personaggio che da anni dalla Valtellina passa primavera, estate e autunno in Abruzzo proprio sulla spiaggia in questione come una sorta di eremita che in inverno torna in Valtellina. Si chiama Tiziano, uomo schivo e riservato che sulla torre si arrampica e che promette di completarla, lui la ritiene un simbolo. È un fiore che si erge al cielo, con i tronchi, con tutto ciò che il mare ha portato e anche non solo io l'ho fatta. È stabile? Stabilissimo, non l'hai visto, sono andato su, ho mosso, poi non è finita. I tronchi del prossimo anno farò il nido in cima. Mirata dello slancio verso cielo che significa qualcosa dal punto di vista spirituale. È un'elevazione verso l'alto. Perché tu predichi il tizianesimo? È evoluto, è evoluto. Una volta era tizianesimo, adesso è qualcos'altro. Qual è il tuo stile di vita? Lo sapete già. Me lo ribadisci? La tua filosofia di vita? Naturale, semplice, senza soldi, i soldi dissacrano la vita, chiudono i canali della vita. Il potere e i soldi sono una mostruosità, è la schifezza umana che regna su questo mondo che distrugge il mondo e distrugge la vitalità. I canali della vita si chiudono col potere e la ricchezza. Non bisogna andare in quella direzione.